ciao a tutti amici carpisti sono qui oggi per presentarvi la failsafe retainer sling è una sacca di mantenimento galleggiante ma con un brevetto un brevetto perché potete trasformarla in un materassino galleggiante qualora vogliate fare le vostre foto in acqua due versioni standard e monster qui con me ho la standard viene fornita con una comoda sacca di trasporto è completamente mimetica ed ovviamente qualità nash d'alto livello con anche la corda perché appunto la cerniera è su tutto il perimetro e quindi badate bene che voi per esempio avete il vostro pesce ora per esigenze non posso farvele vedere in acqua ma pensate avete il vostro pesce la vostra sacca è in acqua vi mettete i vostri waters oppure non so andate nudi andate in acqua la prendete l'aprite e la clippate è una clip molto semplice da usare ovviamente in questo momento la sacca starà galleggiando un'operazione molto molto semplice perché punto c'è questa clip elastica con un anellino e in pochi secondi avete un materassino galleggiante la carpa sarà adagiata qui sotto quindi buone foto a tutti ciao